Un impatto violento per cause ancora tutte da accertare e una carambola impressionante. Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla Fondovalle in località La Barca nel comune di Gallicano. Un furgone si è scontrato con un'auto che proveniva dalla direzione opposta. La vettura sulla quale viaggiavano due persone è finita nel terreno sottostante la strada mentre il furgone si è ribaltato. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il conducente dello scudo si è procurato un profondo taglio all'orecchio ed è stato portato all'ospedale di Lucca. Meno gravi le due persone che viaggiavano sull'auto portate per accertamenti al Santa Croce di Castelnuovo. L'incidente ha provocato qualche disagio agli automobilisti con code e rallentamenti che si sono formati per permettere i soccorsi e i rilievi dei carabinieri.